Una voce e una penna sulle punte, come la sua vita. L'etuale dell'Opera di Parigi Eleonora Bagnato, protagonista fino a domenica 14 febbraio sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari con Giselle, ha presentato nel foyer del Politeama barese, insieme al coreografo Domenico Iannone, la sua prima opera da scrittrice. Un angelo sulle punte racconta una vita particolare, dall'infanzia a Palermo alle scuole di Monte Carlo e Cannes fino a Parigi. Ironica, spontanea e intensa, e piena di progetti nel suo nuovo ruolo di consulente artistico del Petruzzelli. Uno stage per portare avanti i progetti futuri per creare un'accademia e una scuola come si deve in questo teatro. Quindi stiamo adesso lavorando su questo stage per tutte, uno stage internazionale, perché comunque non volevo soltanto una cosa per le bambine di Bari, ma per tutte quelle che sono anche in Italia e cercano dove studiare, quindi porterò tanti maestri, soprattutto la direttrice dell'Opera di Parigi.